Era partita il 22 aprile dall'isola croata di Brazza l'unità trasporter 3 che aveva portato a Fano il materiale per la rifioritura e la posa delle scogliere lungo il tratto antistante la zona di Sassonia. Erano cominciati quindi lavori davanti a Bagni Carlo e a Bagni Gabriele per l'intervento che andrà a migliorare i problemi di erosione della costa ma tempo 2-3 giorni e la chiatta non si è più vista a spiegare quanto accaduto e il vice sindaco Cristian Fanesi dispiaciuto per l'interruzione dell'intervento. La ditta Slimar a cui avevamo incaricato di terminare le scogliere ci ha illuso da un certo punto di vista. Mancano ancora 5.000 tonnellate di materiale che deve appunto venire dalla Croazia per poi essere sistemato sopra le scogliere che comunque già si vedono e sono già profilate. Ecco devono solo creare una berma più efficace e ci hanno garantito che lo faranno entro la fine del mese di questo mese, l'inizio di giugno. Ci auguriamo, prosegue Fanesi, che le promesse fatte vengano mantenute. Va detto però che ci sono stati anche problemi di approvvigionamento del materiale. Comunque entro la stessa data dovrebbe arrivare un altro carico di scogli per concludere i lavori prima della chiusura delle scuole. Dunque siamo comunque soddisfatti anche se preoccupati perché ovviamente finché non è il lavoro finito noi non siamo contenti. I termini contrattuali d'altra parte hanno la possibilità di finire i lavori anche nel mese di giugno e se la Regione Marche, la Capitaneria di Porto fino adesso ci hanno dato tutte le proroghe per poter lavorare anche a giugno, ce le concederanno anche quest'anno siamo convinti di poterlo fare senza grossi problemi. Fanesi poi ha ricordato i finanziamenti ottenuti in questi anni dalla Regione e le risorse messe a disposizione dal Comune per un totale di oltre un milione di euro. Il vice sindaco ha anche annunciato la chiusura della gara fatta insieme al provveditorato delle opere pubbliche di Ancona per le scogliere di Metaurilia. A giorni verrà nominata la Commissione, poi si dovranno valutare le offerte e si deciderà l'impresa che potrà iniziare i lavori a settembre, rispettando così i termini contrattuali. Si tratta di un investimento che supera i 4 milioni di euro parzialmente finanziato da RFI a difesa della linea ferroviaria. È un intervento molto atteso per Metaurilia, certamente, in una zona comunque bellissima ma che ha bisogno di servizi in più per quanto riguarda l'offerta turistica. Nel frattempo proseguono i lavori sulle spiagge per livellare gli arenili che a giorni saranno disponibili per la balneazione. Quest'anno a Sassonia c'è un intervento in più perché nel corso dell'inverno scorso abbiamo accumulato nel retrospiaggia, al bordo della spiaggia, non sulla battigia ovviamente, cumuli di ghiaia perché appunto eravamo in previsione di poter distendere e allungare ancora di più la spiaggia di Sassonia che laddove è difesa dalla costa è incrementata, dalle scogliere scusate, è incrementata di tanti metri e quindi questa è una notizia positiva, una notizia positiva. Il nostro lavoro intrapreso negli ultimi anni ha portato degli effetti benefici sullo sfruttamento sia delle spiagge in concessione e ci mancherebbe altro, ma anche sulle spiagge libere che a Sassonia comunque ci sono.